E' l'unico modo per farlo E' rilasciare le più potenti energie su Gord La torre sbloccherà il potere dei vostri bracciali degli elementi La sequenza di attivazione è stata avviata I vostri bracciali ora sono ultra bracciali Se ne sarete degni Ne condurranno dei guerri N.K. I dormiti dell'energia N.K. Adesso Gorm sarà finalmente nostra Ma che accidenti? Che cos'è Ogi? Sembra un cristallo di roccia ma la sua energia è diversa Non credi che sia pericoloso, vero? Sì, decisamente pericoloso La mecaenergia si lega a qualunque altro tipo di energia Rendendole così molto più potente Non dovresti servirti di ciò che non puoi controllare Ricevuto Pega valanga Nooo Onda di razza Dormiti Gormiti Gormiti Raggiungibili Chi mi fermerà Gormiti 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 Gormiti